L'Utida è una parola svedese che significa contemporaneo e proprio su questo è incentrato il festival di danza al Pomario del Castello dell'Acciaiolo di Scandiccia, le porte di Firenze. La quarta edizione propone in 20 giorni, fino al 9 luglio, 24 titoli e 13 prime nazionali. Siamo giunti alla quarta edizione e quasi non ce ne siamo accorti, nel senso che è stata una felicità naturale, in particolari sforzi abbiamo semplicemente dato spazi ancora maggiori agli artisti e coltivato nuovi talenti che abbiamo seguito in un percorso che non può terminare in un'edizione, in un anno di lavoro. Questo è un aspetto fondamentale per noi.